Ciao Drusilla, questo edificio alle mie spalle è il Ministero degli Affari Esteri. Oggi parliamo della Commissione Europea, che ha sede tra Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo. La Commissione Europea è in pratica il governo dell'Unione Europea ed è composta da 27 commissari, uno per paese. I commissari sono come dei ministri, diretti da un presidente. Ciascun commissario è responsabile di diverse tematiche, come l'agricoltura, l'economia, la giustizia. Ed altre. La Commissione viene nominata ogni cinque anni. E in questi cinque anni non si annoia. In senso generale rappresenta gli interessi dell'Unione Europea. Propone nuove norme politiche, gestisce i bilanci e negozia gli accordi internazionali. Questo vuol dire che definisce la strategia globale dell'Unione Europea. E questa sfera è una scultura di Arnaldo Pomodoro. Uno dei più importanti scultori del nostro tempo.